allora mi chiede questa è la seconda fase della della sbriciolata di ricotta e cioccolato quindi vedete lo sistemata così e adesso vado a mettere la ricotta ecco ecco fatto vedete la stendiamo che profumo con quell'aroma dall'arancia no che ha messo ecco fatto ecco così quindi io ho già acceso il forno a 180 gradi per 45 minuti potete mettere sul fuoco allora quindi vado a sbriciolare così vedete non ci vuole niente a farla questa questa poi a parte che è buonissima proprio quando la assaggiamo vedete andiamo a coprire tutta la ricotta ecco fatto la posto eccola guardate che carina che bella adesso vado a rinfornare e poi vi faccio vedere quando è cotta va bene ciao amiche mie un bacione della vostra francusa